Vederla correre è bellissima, è proprio leggera, quando corre sembra che vuole, è una schezza proprio cosa, sembra che vuole, una leggera è un mezzo. Ehi Margò, cosa fai? Lascia il cordino, che poi ti lo fanno pagare 30 euro un pezzo di plastica. E l'altra sera qui l'ho scoperto un riccio, era un riccio, l'ha sentito, arriva all'altra. Che c'è Margò, Margò? Margò, guarda che c'è Margò, Margò, gioca con Margò, guarda che bella. Non lo credissero. Eh, ma poi tanto il riccio si chiude, non penso che non rifacciano più niente. Non facciano niente, però si fanno male loro. Eh beh, sì. Ti piace rotolarti così, vero Tacchina? Guarda, 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 guarda. Piano, Marley, piano è che è piccola, eh? Puccino, andiamo a casa, andiamo a mangiare. Questa sera per loro è qui. Questa sera è un vaccinato di carne. Grazie. Questa è un vaccinato di carne. Ad Interior è un vaccinato di carne. nelli.